Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Cristian e siete su Crypto Itac. Sono le 21.56 del 27 aprile del 2023 e oggi daremo uno sguardo al Bitcoin su un time frame settimanale, giornaliero e orario. Inoltre daremo anche uno sguardo ai futures sempre del Bitcoin, alla Dominance 2 SDT che ci sta dando sempre degli ottimi spunti per quanto riguarda l'andamento del Bitcoin, alla Total Market Cap, alla Total 2, quella senza il Bitcoin, anche all'euro contro il dollaro, all'SMP500 e poi volevo farvi vedere una chart per quanto riguarda Solana dato che ho sentito parlare un trader durante un video dicendo che secondo lui Solana è una delle crypto che andrà a zero dato l'andamento che ha avuto nell'ultimo anno di Bear Market e questo mi trovo in disaccordo dato che vi confronterò anche la chart di Ethereum durante il precedente Bear Market e vi faccio vedere delle similitudini che a mio avviso si sono verificate anche su Solana. Inoltre oggi vi farò vedere anche come io affronto i flash crash tipo quello che abbiamo avuto nella giornata di ieri che è stato un forte flash crash ma che ne abbiamo visti sicuramente di peggiori. Allora iniziamo con il Bitcoin, in questo momento ci troviamo a 29.651,95 dollari, negli ultimi 24 ore abbiamo guadagnato il 4,75%, nell'ultimo mese abbiamo guadagnato il 9,76% e dall'inizio dell'anno il 71,72%. Il nostro altemai che si trova a 67.492, dal prezzo attuale dovrebbe fare un 127,46% per poterlo raggiungere. Indice paura avidità, ci siamo rispostati in zona avidità e siamo di nuovo a 56 su 100. Siamo solo all'inizio della zona avidità, abbiamo tantissimo margine di salita quindi non facciamoci spaventare da questo oscillatore soprattutto se si trova in questa zona qui che è una zona abbastanza neutrale a mio avviso quindi qui potremo vedere delle oscillazioni a secondo dell'andamento del Bitcoin ci dovremo preoccupare una volta che ci iniziamo a spostare da questo lato qui o una volta che iniziamo a spostarci sull'estrema avidità. Prima di iniziare a vedere i grafici del Bitcoin volevo farvi vedere che ho fatto due sondaggi che a mio avviso sono molto interessanti e vi esorto a partecipare perché diventerebbe molto interessante. Allora su questo sondaggio avete già risposto in 30 e quindi potrei dire che già è un ottimo risultato. Qual è secondo voi il miglior investimento per il futuro? Beh la maggior parte di voi ha risposto il Bitcoin, il 67%, c'è una buona percentuale che ha risposto oro e che anche questo a mio avviso è un ottimo investimento, il 17%. La cosa interessante è che nessuno ha risposto fiat e dollari, guardate nessuno di voi pensa che questo possa essere un buon investimento quindi diciamo che tutti voi avete in mente comunque di trasformare e di convertire le vostre monete fiat in uno di questi investimenti qui. Quindi il 13% azioni e obbligazioni e un piccolo 3% immobiliare, quindi praticamente uno di voi ha risposto a immobiliare. Un altro sondaggio che ho fatto è proprio sul flash crash che c'è stato ieri, quindi il flash crash di Bitcoin di ieri. Come vi siete comportati voi? La maggior parte di voi, il 78%, quasi la totalità direi, ha osservato senza fare operazioni. Ha avuto tantissimo sangue freddo perché ovviamente i flash crash non si sa quando finiscono e non si sa dove arrivano soprattutto. Nessuno di voi è uscito di corsa e questo mi fa piacere perché vuol dire che avete tutti quanti ottimo sangue freddo. Purtroppo qualcuno è stato buttato fuori con lo stop loss, soprattutto per quanto riguarda i trader infraday e invece qualcuno ne ha voluto approfittare per il rimbalzo e anche questo qui comunque ne ha giovato dato il prezzo attuale. Inoltre volevo ringraziarvi perché mi state sostenendo tantissimo, siamo arrivati a 206 iscritti e mi state lasciando tantissimi like che mi fanno tantissimo piacere. Questo vuol dire che i miei contenuti vi stanno piacendo e questo qua mi sta arrivando. Pertanto se volete continuare a supportarmi dato che sono un piccolo canale, mi raccomando ogni vostro like per me è determinante. Lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale qualora vogliate rimanere sempre aggiornati sul mondo delle criptovalute e attivate la campanellina dato che io pubblicherò sempre i miei video in modo molto tempestivo. Iniziamo a vedere il bitcoin su 10 frame settimanale. Come vi avevo detto l'engulfing bearish che abbiamo avuto nella settimana scorsa ce la stiamo quasi mangiando completamente con la settimana attuale. Guardate che bella candela verde che stiamo facendo. Qualora dovessimo chiudere anche in questa posizione diventerebbe un invalidante per quanto riguarda l'engulfing e quindi potremo proseguire per questa fase rialzista anche perché comunque a mio avviso non manca tantissimo alla fine di questa fase bullish. Quindi dal punto di vista settimanale siamo messi benissimo. Qualora dovessimo chiudere così la settimana invalideremo anche l'engulfing bearish. Stiamo rimbalzando anche sulla linea mobile per quanto riguarda l'RSI. L'RSI che non è carichissimo anzi stiamo quasi allo stesso livello che eravamo prima ma comunque l'RSI si è un po' più scaricato quindi abbiamo ancora un po' più margine di salita. E questo è positivo per quanto riguarda il settimanale. Invece spostiamoci sul giornaliero possiamo notare come con la candela odierna ci stiamo spostando al di sopra di questo canale rialzista e potremmo potenzialmente andare ad attaccare la parte superiore di questa resistenza di questo canale giallo chiaro che attualmente si trova intorno ai 31.300 dollari. Quindi segnando comunque un massimo superiore rispetto a quello precedente. Da notare che anche con l'RSI abbiamo scaricato tantissimo. Vediamo come ci... se abbiamo la possibilità di salire. Soprattutto diamo un'occhiata a eventuali divergenze che si possono andare a formare durante il proseguimento di questa fase rialzista. Spostandoci sull'orario è qui che volevo parlarvi un po' dei flash crash. Quindi noi abbiamo avuto questo fortissimo flash crash. Quello che dobbiamo fare quando noi assistiamo a candele del genere che comunque sono candele abbastanza importanti, anche se non le più importanti e dopo ve ne farò vedere una che vi farà impallidire questa qui, che io ancora mi ricordo, quando succedono queste cose. Quello che dobbiamo fare è vedere la chiusura delle candele, se rompe o non rompe determinati supporti che noi riteniamo determinanti. Pertanto questa candela qui che è andata a scendere non ha rotto nessun supporto fondamentale, qualora invece avesse chiuso al di sotto di questo canale, da lì io mi sarei iniziato a preoccupare. Il canale non l'ha nemmeno toccato e da qui abbiamo rimbalzato e stiamo andando a salire. Se infatti ci spostiamo un attimo sulla total market cap, possiamo notare che non stiamo chiudendo nessuna candela al di sotto di questo canale. Quindi stiamo rimbalzando sulla mediana e da qui abbiamo avuto un bel rimbalzo. Anche con la candela di ieri, guardate, non abbiamo chiuso nessuna candela sul giornaliero al di sotto di questa mediana, di questo canale realsista e anche se ci dovessimo spostare su candele orarie, guardate come la candela oraria è stata subito rimangiata e da qui siamo subito ritornati al di sopra di questo canale realsista. Questo è un ottimo segnale bullish, già la chiusura di questa candela qui è un ottimo segnale bullish che vuol dire che qui c'è stata tantissima richiesta da parte dei bulls per poter proseguire in questa fase. Anche se ci spostiamo sulla total 2, che per chi non lo sapesse sarebbe la total market cap escluso il bitcoin, quindi tutte le altcoin, possiamo notare che anche in questo caso sul suo canale realsista non abbiamo chiuso nessuna candela al di sotto della mediana. Quindi ci sono state delle shadow di pesca di liquidità, ma da qui poi siamo risaliti, ci siamo rimessi sopra e stiamo provando a rimbalzare. Anche qui se ci spostiamo sull'orario possiamo notare che con il flash crash che abbiamo avuto la prima candela l'abbiamo chiusa proprio al di sopra della mediana, sulla seconda candela ci siamo andati sotto, ma poi abbiamo chiuso esattamente sulla mediana e da qui abbiamo rimbalzato. Anche questo qua era da notare come ottimo segnale bullish. Inoltre volevo farvi presente che sul bitcoin futures, infatti ieri lo stavo notando proprio in diretta, che avevamo aperto questo gap sui futures che era tra i 28.170 e i 28.065. Con la candela di ieri già quando abbiamo iniziato a scendere intorno ai 28.900 già avevo capito che questa candela voleva andare a chiudere questo gap. Così è stato, l'abbiamo chiuso, siamo andati anche nettamente sotto, siamo andati a toccare addirittura la base di questo supporto, quindi siamo arrivati a 27.245 da cui abbiamo rimbalzato. Abbiamo aperto due piccolissimi gap ma proprio microscopici che si trovano intorno ai 28.400 il più basso e intorno ai 28.690 il più alto e che questi qui vedremo se poi nei prossimi giorni vorrà andare a chiudere o se invece proseguiremo direttamente in questa fase realzista sino ad arrivare al local top per quanto riguarda il 2023 per poi iniziare a stornare un pochino. Quindi spostandoci sull'orario che cosa io mi aspetto? Allora se noi tracciamo anche un bel Fibonacci possiamo notare che dall'inizio del crash sino al local bottom che abbiamo fatto in questo momento siamo andati a ritestare ovviamente l'1 di Fibonacci dopo aver sfondato sia lo 0.61 che lo 0.78 e da qui qualora dovessimo chiudere al di sopra dell'1 e quindi dovessimo chiudere intorno ai 29.900 e 30.000 dollari io comunque mi aspetto una risalita addirittura sino all'1.61.8 che bene o male sta coincidendo con la parte superiore di questo canale realzista quindi a mio avviso se riuscissimo già nelle prossime ore a metterci al di sopra dell'inizio del flash crash a quel punto potremmo provare a spingerci addirittura sino alla parte superiore di questo canale che si trova quindi intorno ai 31.300 dollari vediamo come proseguirà nelle prossime ore qualora abbia bisogno invece di un eventuale supporto secondo me la mediana di questo canale realzista potrebbe fare da ottimo supporto e quindi poter vedere una fase del genere che potrebbe spingere il Bitcoin ad andare nuovamente verso l'alto ovvio che dopo tutta questa salita qualche storno ci sta benissimo quindi anche da questo punto di vista io non mi allarmo ma ovviamente come ben sapete non sono né consigli finanziari né di trading ma sono semplicemente le mie opinioni quindi investite con la vostra testa mi raccomando diamo uno sguardo invece alla USDT Dominance questa qui dopo aver fatto un touch sulle due resistenze che avevamo segnato da lì abbiamo di nuovo stornato se vi ricordate io vi avevo detto in questa fase qui che aveva fatto una rising wedge c'era stata una formazione rising wedge cioè che qualora l'avessimo rotta avremmo avuto come primo target quello di 7.04 così è stato poche ore dopo l'abbiamo subito rotta e siamo andati subito a toccare il target e addirittura ci siamo spinti sino al 6.81% da qui abbiamo trovato un bel rimbalzo perché comunque ricordiamolo che questo è un bel supporto guardate qui come ha fatto sempre da supporto e in questa fase qui ha fatto da resistenza quindi questo è un ottimo supporto ora vediamo se potremmo proseguire in questa fase ribassista della USDT Dominance e andare a romperlo per andare a testare questa trendline ascendente che è questa qui che vi sto indicando in questo momento che è di questo colore qui diciamo colore verde e da qui vedere che cosa ha in mente la Dominance se rimbalzare oppure se romperla qualora dovessimo romperla e dovessimo addirittura rompere anche questo ne potremmo vedere delle belle diciamo che queste due ora sono diventate le due resistenze che sto tenendo maggiormente in considerazione la totale che ve l'ho fatta vedere ora spostiamoci per quanto riguarda l'euro contro il dollaro io vi avevo detto al touch di questo canale rialzista che abbiamo avuto nella settimana del 13 marzo quindi è passato un bel po' di tempo che da qui mi sarei aspettato un bel rimbalzo da parte dell'euro e così è stato guardate tutte praticamente quasi solo candele verdi a mio avviso la 200 settimane sta facendo esattamente da calamita e quindi andremo a testarla per me sicuramente perché tutte le volte che abbiamo avuto delle fasi rialziste per quanto riguarda l'euro sempre e dico sempre siamo andati a testare la 200 settimane non c'è stata una volta in cui abbiamo fatto una fase rialzista dove non abbiamo fatto un test sulla 200 settimane poi a volte siamo stati respinti bruscamente come è successo qui a volte invece l'abbiamo utilizzata come supporto per andare a testare la parte superiore di questo canale ribassista in favore quindi del dollaro però guardate come l'abbiamo sempre e sempre testata praticamente il prezzo dell'euro ci sta navigando sempre intorno quindi ogni volta che ci distanziamo di tanto subito veniamo di nuovo attirati e attratti dalla 200 settimane che poi vedremo se ci farà da resistenza oppure se riusciremo a prenderla come supporto e a rompere finalmente dopo un decennio praticamente questo canale ribassista che ci stiamo portando dietro dal 2007 più di un decennio quindi da 15 anni praticamente vediamo se finalmente questa sarà la volta buona per poterlo rompere definitivamente e poter andare a recuperare molto di più per quanto riguarda l'euro questo potrebbe avvenire solo se succedesse qualcosa di veramente importante quindi vediamo come andrà e se ci saranno delle novità al riguardo non mi voglio dilungare tantissimo altrimenti il video diventa troppo lungo quindi vediamo velocemente anche l'S&P500 ci stiamo mettendo al di sopra di questo canale rialzista verde vediamo se riusciremo ad attaccare la parte superiore di questo canale verde prima di poter iniziare a stornare che in questo momento si trova a 4.335 punti inoltre stiamo andando a testare lo 0.5 di Fibonacci ma quello non mi fa tantissimo vavoro anche se qui ha fatto da resistenza secondo me a questo giro se dovessimo andare lo potremmo iniziare a rompere potremmo andare allo step successivo che sarebbe lo 0.61 che bene o male coincide con la parte superiore di questo canale rialzista anche per quanto riguarda quindi l'S&P500 a mio avviso siamo ancora rialzisti per qualche giorno ancora o qualche settimana quello che volevo far vedere è appunto Solana contro Ethereum quindi volevo farvi notare che non sempre le criptovalute quando ritracciano anche del 9665 come è in questo caso Solana poi sono criptovalute che andranno sicuramente a 0 io sono un grande sostenitore per quanto riguarda Solana le sto tenendo e non le venderò per un paio d'anni sicuramente perché a mio avviso andranno a valere molto di più ma anche questo qui non è un consiglio finanziario ma è soltanto la mia opinione quindi cos'è che questo youtuber sosteneva sosteneva che una criptovaluta che scende del 90 e passa per cento a quel punto diventa una criptovaluta morta ed è destinata comunque a scendere allora tutte le criptovalute hanno i suoi bear market Solana è nata da da poco quindi ha avuto una sua bull run molto forte accelerata e invece ha avuto una grandissima fase di bear market però il 96,65 che ha fatto di Solana non è un caso isolato di una criptovaluta specialmente di una criptovaluta molto importante e infatti se noi notiamo Ethereum quello che ha fatto dal 2018 sino al 15 dicembre sempre del 2018 Ethereum è scesa del 94,15% quindi era arrivata al suo oltamai di 1420 dollari per arrivare a toccare un bottom degli 83 dollari quindi aveva perso veramente tantissimo tutti la davano per spacciata tutti la davano per morta e invece così non è stato poi abbiamo visto Ethereum che andamento ha fatto successivamente superando di netto anche il suo precedente oltamai pertanto prima di giudicare una criptovaluta solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'andamento in fase di bear market soprattutto se è una criptovaluta giovane come Solana e come lo era anche Ethereum in questa fase qui pensateci bene studiatevela bene perché dove la maggior parte delle persone possono vedere un investimento perso magari chi ha l'occhio un po' più lungo può vedere un ottimo potenziale e un ottimo profitto per il futuro quindi io con questo mi fermo qui se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like di supporto iscrivetevi al canale e attivate il clic della campanellina per rimanere sempre aggiornati io vi ringrazio e vi do un grandissimo saluto ciao ciao